Ciao Astronomers! Oggi sono felice di presentarvi al nostro plato di 915 mm Plus Osmendi Stile Doftail che abbiamo specificamente designato per montare sicuramente il vostro motore di alto cover e generatore di giotto flatfield ad Edge HD 9 1⁄4 e 11", con l'aluminum view shield! Il 915 mm Plus Osmendi Stile Doftail plate è designato con la stessa precisione che la nostra barra di 645 mm che è designato per l'Age HD 8 Ince Telescope con l'aluminum view shield, ma viene con una lunga extensiva per accomodare le modelle di Edge HD 9 1⁄4 e 11 ince, con l'aluminum view shield! Per esempio, vediamo come connetterlo a questo Telescope che è un Edge HD 11 ince, con l'aluminum view shield! Prima di tutto, devi afficciare i blocchi di più sull'aluminum view shield, sull'upper parte del Telescope, uno sul retro e uno sul fronte. Poi, segnare il 915 mm Plus Osmendi Stile Doftail, usando le scuole M6. scuole M6. Potete vedere che si estende fino all'aluminum view shield, esattamente ciò che abbiamo bisogno per installare l'alto cover motor con il Giotto Flat Fill Generator. Per connetterlo alto e il Giotto a una barra di 915 mm, bisogna solo attaccare l'aluminum view shield plus a l'alto cover motor. Ora possiamo precisamente affettare l'alto cover motor con il Giotto 320 Flat Fill Generator, che è necessario per illuminare completamente il Telescope Edge HD 11 ince. E se hai il Telescope Edge HD 9 ¼, il stesso 915 mm Plus Osmendi Stile Doftail Plate, ti permette di utilizzare il Giotto 285 come capo motorizzato, insieme con l'alto cover motor. Questa combinazione permette di controllare automaticamente e precisare di caligrazione flat con il Telescope Edge 9 ¼ e 11 ince, rendendo le vostre sessione di astrofotografia semplici e più effettive. Per più contenuti che ti aiutano a esplorare l'Universo come un pro, abbiatevi al nostro canale e... Clear skies!